Buonasera a tutti amici, vedete ci sono ancora molti equivoci sulla trattazione del caso Denise e mi rendo conto che a volte non è facile per chi non ci sta dentro. Io vi devo la lettura di una mail che mi è arrivata nei giorni scorsi che praticamente è tipica di coloro che dicono se la magistratura inquirente non ha trovato nulla bisogna avere il rispetto anche per la magistratura inquirente e quindi cercare altre e non ribadire sempre le stesse posizioni. Ora, vedete, queste mail fanno pensare che il noccio della questione non viene mai raggiunto. Vi do lettura, vi do lettura, lui è Mirko da Vasto, vi do lettura di questa mail. Dice, buongiorno dottor Castellano, quando si parla di rispetto per la magistratura bisogna allora anche rispettare chi fa le indagini. Se Jessica è stata riconosciuta innocente e Anna Corona ha schiviato più volte, perché continuare con queste posizioni? Troppo facile insistere su un movente basato su rancori e tradimenti, ma non basta per condannare le persone. Bisognerebbe o bisognava valutare altre ipotesi. Potevano essere rancori di qualcuno contro la famiglia di Tony Pipitone oppure contro la stessa Piedamaggio o della stessa famiglia Pipitone contro Piedamaggio, avendo scoperto che la bambina non era figlia di Tony Pipitone. Tanti possono essere stati motivi che non li conducono alla pista facile di Anna Corona, Jessica e Denise e secondo me non si è cercato nella direzione giusta. E allora non ci siamo capiti. Non ci siamo capiti perché il dire ciò significa che ci può essere un'alternativa. Allora se uno veramente studia a fondo la questione, capisce invece che non ci sono alternative. Allora ribadiamo ancora una volta in questo video il perché. Il perché il momento è unico e non ce ne sono altri, secondo la mia opinione ovviamente. Partiamo da un'intervista di tempo fa di Piedamaggio in cui diceva, diceva una cosa molto importante. Diceva che negli anni precedenti a RappiMail, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, non c'era il reato di stalking, quindi diceva non si parlava di stalking, ma io l'ho subito. Jessica Pulizzi più volte al giorno passava per la strada di casa nostra, quindi passava e evidentemente insultava, guardava, minacciava. Anna Corona più volte incontrava mio padre per dirci che donna ero io e che me l'avrebbe fatta pagare. Jessica mi ha squarciato tutte e quattro le ruote della macchina e c'è stato un incendio all'erboristeria di mia mamma, dove lei poi lavorava. Quindi per stazioni continue, ai due marescialli che arrivarono quella mattina, l'esapimento, dissi subito di andare a casa di Anna Corona, per me, nell'immediatezza, non ci poteva essere altre persone sospette. Ora, quindi c'è tutto un antefatto. Le vessazioni, lo stalking, le minacce, le ruote squarciate, gli incendi, non sono casuali. Non c'è altro, non c'è altro. Ma, oltre a questi episodi qua, perché non c'è altro? Perché anche il rapporto fra l'Anna Corona all'epoca, se parliamo sempre degli anni precedenti, non è soltanto il tradimento, il marito, eccetera, ma forse dimentichiamo che c'era un rapporto particolare anche fra Anna Corona e la stessa Pia Maggio. Cioè avrebbe voluto Anna Corona, che fece intendere certe cose, e a cui Pia Maggio si sottrasse. E quindi fu un'ennesima delusione. Ma gli episodi non si fermano qua. Oltre a fermare al padre, al padre di Piera, ma ce l'aveva e fermava anche a Giacomo. Giacomo una volta in un supermercato l'affrontò, diciamo, si disse, ma tu perché fai tutte queste cattiverie? E lei dispose, queste non sono cattiverie. Poi ti accorgerai le cattiverie quali sono. Te ne farò accorgere io quali sono le cattiverie. Questo poco prima del sapimento. Ma gli episodi sono tanti e sono univoci. La stessa Jessica, perché avesse 17 anni, affrontava il padre in malo modo perché gli imputava il fatto di dare tutte le attenzioni alla piccolina e non a lei. Una volta lo affrontò, alla presenza di persone pure, all'uscita da un negozio di abbigliamento in cui l'uomo aveva delle buste, insomma, di vestiario per bambini e lei lo affrontò dicendo, vedi, per me magari non hai soldi per comprarmi, non so, le cose, il motorino nuovo e altre cose, mentre per lei sì. Quindi c'era anche questa rivalità. Ora, gli episodi sono questi, ma anche successivi e durante il sapimento. Quella Fiesta Blu che sfrecciava per le strade di Mazzara guidate da una donna con i capelli ghost, non è normale. Non si sa chi era, ma non è normale. Non è una combinazione. Ma voglio dire, le stesse indagini, perché la dottoressa Angione, ad esempio, quando prese le indagini un mese dopo, stiamo parlando dell'ottobre 2004, ottobre 2004, fino a luglio 2005, si accorse che la polizia non collaborava. La polizia aveva protezioni nei confronti di certe persone. Lei si accorse che c'era un ambiente criminale che era infiltrato, ma vi sembra normale. Che i sospettati sapevano delle intercettazioni. E quando lei sostituì la polizia con i carabinieri, ma subito una sua domanda di trasferimento venne accolta a tambur battente, subito. Quindi lei disse che aveva la sensazione di una protezione per i corona. Tant'è che la sua meraviglia è che lei aveva ordinato anche un interlocutore a Claudio Morona che poi si era concluso con due righi. Con due righi. Soltanto una risposta, non so niente, e finiva lì. Ma allora di che cosa noi stiamo parlando? Di quale alternative, vorrei dire all'amico Mirko, quale alternativa noi stiamo parlando? Sono tutte alternative univoche. C'è un episodio in particolare, forse non tanto conosciuto, che il 22 luglio, cioè alla vigilia del trasferimento della dottoressa in Gioni, in Zardegna, prima del trasferimento, lei andò a Zagusa per sentire due donne che da una intercettazione lasciavano intendere sapere molte cose. Ma mentre stavano interrogando queste due donne, fu interrotta da funzionari della polizia giudiziaria che con una scusa portavano via queste due donne. Lei ebbe paura perché questa intercettazione delle donne non era importante perché dicevano purtroppo è morta, purtroppo è morta riferendosi a quel contesto. Mentre invece, poi la polizia giudiziaria si giustificò dicendo no, quelle si riferivano a una pianta, una pianta che era morta. Ma il fatto è grave in sé, cioè come interrompere un interrovatore di un pubblico ministero così all'improvviso. E allora, vedete, allora forniteci delle piste alternative. Delle piste alternative, purtroppo. Non esistono. Non sappiamo dosare le responsabilità perché qualcosa sfugge. Ma non possiamo dire il rancore, la famiglia, Tony Pipitone, il pedofilo, i zingari. E tutto questo che senso ha? Che senso ha, ad esempio, il giorno 1 in questi contatti frequenti fra Anna Corone, Anna Corone e Stefania Letterato, la fidanzata del commissario, DPS. che senso ha la fornitura da parte della stessa di una scheda, di un telefono, una scheda indestata al commissariato al fine di non essere intercettata più? Quindi quale ipotesi alternativa? E le sim e le sim attivate fanno pensare veramente queste tre sim attivate il giorno 1 a Mazzara fanno pensare proprio a un gruppo, a un gruppetto di persone entrate in azione, entrate in azione per fare questo colpo. Certamente le responsabilità magari qualcuno che avvicinasse la bambina come poteva essere una persona come Jessica che la conosceva, ma il commando, questo è il vero, secondo me c'è un vero e proprio commando che era pronto ad entrare in azione altrimenti non si spiega come tre sim anonime entrino contemporaneamente in azione quel giorno a Mazzara e uno in particolare poi segue un percorso che è compatibile con il sapimento nei dintorni della casa. E' un duolo, poi il duolo non si sa se Jessica abbia avuto un duolo di arrescamento momentaneo a cui si collega questa famosa frase e a casa ci avruttai ma questo noi non è che possiamo sapere i dettagli ma questo per dirvi quale alternativa c'è come pure i movimenti notturni di Anna Corona che fecero pensare non so a quel casolare di Villagrazia di Carini ma comunque a un movimento che si giustificò con delle anomalie solo a lei delle sue celle delle celle telefoniche o a qualcosa che andò male qualcosa che andò storto nella vita magari della della bambina ma d'altronde la stessa Cassazione la stessa Cassazione che conferma il movente dico se noi vogliamo rispettare no dico l'amico Mirko le sentenze le quelle che dice la magistratura allora dobbiamo anche rispettare il movente cioè la Cassazione ribadisce dice non abbiamo trovato le prove sufficienti per poter condannare questa la Jessica però il tutto è maturato nell'ambito della famiglia allasgata in questo odio feroce in questo intreccio feroce qui non dobbiamo dire inesattezze perché altrimenti ci allontaniamo dalla verità e diamo adito a chi ci critica diamo adito a chi dice voi fate la caccia alle streghe una volta dite una cosa una volta dite un'altra una volta la comunità somma una volta i pedofili una volta una volta chiedere le mose poi una volta ci sono le somiglianze dobbiamo battere su questa motivazione che è unica perché poi voglio dire no nessuno cioè una persona che prende una bambina non può agire da solo e mettere in moto tutto questo ambaradano non si può pensare che ci siano tre quattro cinque persone venute da fuori così giusto perdere e i rom i rom i rom è ridicolo proprio questa cosa dei rom perché a parte che loro hanno una marea di bambini ma ma non hanno non avrebbero avuto un'organizzazione alle spalle di 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 quindi quando giungono delle critiche dicendo noi dobbiamo rispettare la magistratura noi la rispettiamo la magistratura però dobbiamo anche pensare che tutto ruota intorno a quel primo settembre a quelle anomalie la piramaggio che non c'era il piramaggio che non c'era le sim attivate tutte queste cose qui che fanno certamente pensare a un qualcosa di organizzato ora dove è andata chi l'ha presa esattamente dove l'hanno portata prima a chitto poi dove l'hanno portata sicuramente fuori di Mazzara se non subito in un secondo momento questo voglio dire noi non lo possiamo sapere ma è certo è una cosa certa è una cosa sicura e su questo bisogna battere non bisogna pensare a piste alternative non c'è nessuno speriamo che il 14 anche con forse con interrogatori di qualche test un po' di luce venga fatta amici miei perché altrimenti noi non ci stancheremo mai e ribadiremo quello che è sotto gli occhi di tutti c'è la verità nelle carte processuali la verità sta tutta lì fidanzati che se ne scappano persone che non telefonano più Fabrizio Galebo persone che si dileguano ma possibile mai che ciò accada se loro sono estranei? non è possibile non è possibile non è possibile non è possibile e quindi noi andiamo avanti ed siamo in attesa di novità condividete il video condividete mi raccomando e siamo qui sempre sul pezzo ad aspettare che qualcosa accada un abbraccio a tutti ciao ciao grazie a tutti